salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi alleneremo dorsali e spalle ragazzi faremo una lat machine come primo esercizio faremo sempre 4 serie per 20 15 10 e 5 ripetizioni ovviamente più la super serie in presa in persa partiremo sempre con un peso da 14 28 38 ragazzi scusate non volevo dire 38 e 28 volevo dire 14 24 34 e 44 kg ci vediamo con il primo esercizio ragazzi peso 58 kg grasso corporeo 12,4 perfetto Grazie per la visione! 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 Ok ragazzi, primo esercizio fatto, l'Hat Machine ultima serie devastante, di 44 kg ancora si sembrano tantissimo, però dai, piano piano mi diremo anche questo. Ragazzi, adesso secondo esercizio, abbiamo sempre l'Hat Machine con il triangolo e abbiamo sempre 4 serie per 4 serie per 4 serie per 10 con 34 kg. 3 serie per la visione! 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 Ok ragazzi! 3 serie per la visione! 3 serie per la visione! ovvero stacco da terra! Ebbene ragazzi, siamo allo stacco! 70 kg ragazzi! 70 kg ragazzi! 3 serie per 5 ripetizioni! 4 serie per la visione! 5 serie per la visione! 6 capellone aiutra! petroleumilare! Ut Dawn 3 serie per la visione! Hoje è passsima data! 1 serie per la visione! Per la visione! Hoachte positive acontece! 3 serie per ieri delipto! ragazze ne ho fatto in più però va bene così perché ovviamente è rialzato non è terra perché non ho i tt in questo momento e quindi rischi di spaccare tutto però va bene così tre serie tre ripetizioni in più perfetto proviamo a fare altre due serie ci vediamo con le spalle ragazzi primo esercizio delle spalle mini carry press il peso va da 18 28 38 giri faremo tre serie per 15 10 e 5 quindi Grazie a tutti 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 Però con 20 kg Enti che 4 Grazie a tutti Ragazzi bruciano un casino Magari dal video Non si vede che faccio così tanta fatica Ma è sicuro che la faccio Ragazzi Questo video è finito qui Io vi farò le altre serie E poi vi provvedere Il ricetto fisico ovviamente e ci vediamo alla prossima